Amici dell'Appetito viene parlando, eccoci qua, dal ristorante La Vigna in Via Piemonte a Montesilvano, diamo vita a questo nostro appuntamento a tavola, ospitando finalmente, direi, il primo cittadino di Montesilvano, della città ovviamente dove ci troviamo, vale a dire Francesco Maragno, con cui con dell'ottimo vino firmato Tiberio, una ottima cantina di cugnoli, brindiamo, dicevo, a questo nostro incontro, Cin Cin, è un piacere. Buongiorno. Primi antipassi ai frutti di mare, qui la cucina marinara la fa da padrona, in questo locale diretto con grande professionalità dall'amico Paolo Agnellini, è un locale storico, aperto da 45 anni, io lo ricordo con particolare emozione perché proprio da queste parti, caro sindaco, iniziavamo con l'amico Carlo Andrea Falcone, consigliere comunale di Montesilvano, una bella avventura legata al concorso di Miss Adriatico, che prima si chiamava Miss Festa Estiva, un evento che veniva presentato da Gianfranco Valli, che è un personaggio che tanti abruzzesi conoscono, un personaggio televisivo senz'altro che ha fatto la storia della televisione dalle nostre parti. Allora, davanti a questo antipasto lei può non solo prendere visione ma anche assaggiare perché qui il buon pesce fresco del mare Adriatico è di scena al ristorante La Vigna di Montesilvano che ci ospita per la prima volta. Allora, sindaco, lei è particolarmente indaffarato anche perché soprattutto in questi giorni si continua a parlare di questo rimpasto, poco più di un anno di attività amministrativa, è stato un anno turbolento perché lei aveva anche a suo tempo rassegnato le dimissioni, ha fatto stare davvero i montesilvanesi sul chi va là, come si suol dire, però oggi come oggi si parla di rimpasto. Cosa c'è di vero e quali sono le ultime novità? Diciamo che come in tutte le buone famiglie ogni tanto bisogna fare il punto della situazione. Noi abbiamo un'amministrazione che sta governando già da 15 mesi, abbiamo bisogno, comunque di continuare a governare con la massima tranquillità e con la giusta programmazione e non possiamo, o meglio non posso, visto che io sono molto esigente con i miei assessori, continuare a spremerli eccessivamente perché devo dire in questi primi 15 mesi di mandato la gestione è stata particolarmente complicata perché ereditare una gestione, passando da una gestione commissariare ad una gestione politica è estremamente complicata, estremamente difficile, credo che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, abbiamo dovuto affrontare delle situazioni molto critiche, mi riferisco alla situazione economico-finanziaria dalla quale non siamo completamente usciti, ma per la quale comunque abbiamo lavorato intensamente sia io che i miei assessori con tutto lo staff del tecnico del Comune di Montesilvano per cercare di alleggerire quella che era una problematica molto sentita e incombente. Perché si rischiava il dissesto, è vero? E' un ricordo lontano. Ovviamente di questa giunta hanno fatto parte delle figure tecniche che sono state davvero incomiabili per la professionalità, l'impegno. Si riferisce all'avvocato Leo Brocchi, noto personaggio politico, cittadino? Mi riferisco all'avvocato Brocchi, mi riferisco alla professoressa Verrini, mi riferisco alla dottoressa Donofrio che hanno svolto un ruolo tecnico davvero in maniera eccezionale a cui davvero non si poteva chiedere di più. E' giusto che comunque anche chi sia stato eletto abbia un ruolo di responsabilità, però il tutto con estrema tranquillità, senza situazioni di incombenza, perché non abbiamo bisogno di fare il rimpasto perché ce l'ha prescritto il medico, ma dobbiamo farlo solamente nel momento in cui c'è qualcuno che non è più in grado per gli impegni professionali, gli impegni familiari, gli impegni personali di assolvere con la stessa intensità e la stessa passione al compito assegnatogli, quindi è giusto magari riuscire a motivare e a coinvolgere altri soggetti. Il bello di questo programma, sa qual è Sindaco, oltre a questi piatti le cui presentazioni si commentano davvero da solo, è il fatto che noi diciamo la verità nuda e cruda così come si presenta. Allora, sa cosa dice la gente? Perché la gente legge, ovviamente si informa, si documenta, soprattutto per una realtà che segue particolarmente da vicino. Si è vociferato, si è detto da più parti che potrebbe essere uno dei candidati a ricoprire la carica di assessore un consigliere comunale eletto nella centrodestra, Antonialiano, che è stata la sua spina nel fianco fino ad oggi. Allora la gente, anche al bar, nei circoli privati, nei luoghi pubblici, si interroga e dice, ma come mai? Fino a ieri si facevano la guerra, oggi è tutto diverso? Ma io non estremizzerei questi discorsi, ritengo il consigliere Eliano una persona intelligente, un serio professionista che vive la politica da un punto di vista emotivo in maniera molto passionale, quindi gli scontri che ci sono stati alla fine, se andiamo a vedere, sono sempre stati degli scontri non strumentali ma costruttivi, perché alla fine l'obiettivo è un obiettivo comune che comunque è stato raggiunto, si è fatto di tutto per poterlo raggiungere. Io oggi non mi pongo di questi problemi, non è il vociare della gente che deve condizionare l'attività amministrativa, io ritengo che le scelte che possono essere fatte e devono essere fatte, sono delle scelte da considerare solamente nell'ottica della governabilità della città per fare l'interesse dei cittadini, quindi ben venga qualunque manifestazione di interesse e qualunque sostegno a questa iniziativa. Ritengo che comunque il consigliere Arliano non abbia questa intenzione, questa revelità, almeno al momento, però ritengo opportuno che un sindaco debba dialogare con tutti, perché ciascuno dei consiglieri, ciascuno di quelli che comunque hanno dato il proprio contributo ad una campagna elettorale e che hanno delle idee positive per lo sviluppo della città, la debbano mettere in campo e devono saper proporre delle soluzioni a quelli che sono i tanti problemi che affliggono la città. Però ritiene di essere cambiato, sindaco, perché qualche mese fa lei rassegnò le dimissioni, proprio perché non voleva parlare con certi personaggi, non voleva scendere a compromessi, lei fece delle denunce davvero molto precise anche sugli organi di stampa, cosa è cambiato in questi mesi? È cambiato che sicuramente ho qualche capello bianco in più, perché le preoccupazioni non mancano e devo dire che spesso e volentieri ho perso anche il sonno, ma questo fa parte del ruolo che ricopro è una città complessa, è una città dalle mille problematiche irrisolte, io non voglio fare dietrologia né polemica perché comunque non mi appartiene, però diciamo che in passato probabilmente andava costruita l'idea di città, l'idea di città che oggi ci manca. Di ciò che ho fatto in passato io non rinnego assolutamente nulla, ovviamente non sono una persona perfetta e come tanti anche io ho commesso i miei errori, sono stati fatti errori probabilmente di valutazione, però posso assicurare che tutti gli errori che sono stati fatti sono stati fatti in buona fede. L'obiettivo che ha connaturato la mia azione nel momento in cui mi sono candidato e nel momento in cui sono stato eletto, l'obiettivo principale è sempre stato uno e continuerà a essere unicamente il bene dei miei concittadini, il bene e lo sviluppo di questa città e credo che sotto questo punto di vista le aspettative non mancano, abbiamo seminato e sono convinto che nel giro di poco cominceremo a raccogliere i nostri frutti. Cerchiamo di anticipare i tempi, potrebbero essere Ernesto De Vincentis e Deborah Comardi, i prossimi assessori? Io non escludo nessuno dalla possibile composizione, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, non ci sono posizioni precostituite né preconfezionate, valuteremo tutte quelle che sono le candidature, soprattutto chi si sentirà in grado di poter ricoprire quel ruolo là, perché io da una prima scrematura, da una prima valutazione fatta con una serie di consiglieri, ci sono tanti che pur aspirando a voler fare l'assessore non si sentono al momento in grado di aver maturato quelle minime esperienze amministrative che gli consentono di fare questo salto di qualità. Io non nutro dubbi che comunque le scelte che verranno fatte verranno fatte per cercare di consolidare quanto di buono è stato fatto finora e per cercare di rilanciare se possibile in ottica migliorativa l'attività amministrativa. Come giudica fino ad oggi il compito che lei ricopre, ricopre davvero con grande impegno caro sindaco, perché le opposizioni sono ogni giorno sul piede di guerra? Sinceramente io non ricordo opposizioni che non siano state sul piede di guerra. Lei è stato anche costretto a denunciare una campagna diffamatoria, secondo lei, di un noto consigliere di opposizione, lo sanno tutti, che con manifesti ha dato delle indicazioni precise alla cittadinanza. Io ritengo che la politica non si faccia con la calugna e non si faccia con le bugie, la politica si fa con i risultati e con i dati di fatto e la mia azione amministrativa è finalizzata esclusivamente a questo. Lo possiamo dire? Lei ha denunciato pubblicamente il consigliere Lino Ruggero? E' stata fatta una denuncia, ma per tutelare la divisa che io ho indossato e che indosso con tanto onore e perché è stata infangata la mia famiglia, esclusivamente per quello, perché altrimenti se si volesse denunciare gli attacchi strumentali e falsi che quotidianamente arrivano si dovrebbe trascorrere l'intera giornata presso un tribunale, ma non è una situazione che mi interessa e mi appassiona. Quindi questi attacchi lei non li richiene semplice satira politica come è stata definita dai diretti interessati, ma una vera e propria campagna diffamatoria? Io sinceramente non voglio dare neanche troppa importanza a questa. Ritengo che le opposizioni debbano svolgere il proprio ruolo, a volte lo fanno in maniera più al di sopra delle righe, altre volte in maniera strumentale, fa parte del loro modo di fare politica. Io ritengo che in periodi di crisi come sono gli attuali, dove l'interesse generale deve essere la risoluzione dei problemi del cittadino, maggioranza e opposizione devono condividere lo stesso percorso per fare in modo da dare tutti insieme delle risposte al cittadino. Ecco perché nel momento in cui dall'opposizione arrivano delle proposte sensate, delle proposte intelligenti, io sono sempre stato il primo a ballarle e a sostenerle, non è la colorazione politica che interessa il cittadino, ma è la risoluzione del problema. Io non vorrei farle andare il boccone di traverso perché qui è davvero tutto buono all'interno di questo locale che ci ospita, il ristorante La Vigna di Via Piemonte a Montesilvano, però dai banchi dell'opposizione continuano a ripetere che Montesilvano non può essere guidata da un sindaco part-time, bisogna avere un sindaco H24 che possa seguire le diverse problematiche perché ne sono davvero tante che attanagliano questa cittadina rivierasca, lì continua a lavorare in guardia di finanza e quindi la sua risposta ufficiale qual è? Io riesco a lavorare al comune di Montesilvano con il massimo impegno e questo credo che sia evidente sia sotto gli occhi di tutti. Cerchiamo di stare sul pezzo e di risolvere H24, i problemi del cittadino, sacrificando gli affetti, sacrificando gli impegni personali proprio perché crediamo in questo progetto e vogliamo rilanciare questo progetto e già dagli inizi del mio mandato credo che i risultati si vedano, sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo ereditato una città all'abbandono, una città disastrata, ricordo che ammontavano a quasi 70 milioni di Euro di debiti la situazione debitoria, un debito pro capite di quasi 1300 Euro per ogni cittadino, abbiamo abbassato l'indebitamento, abbiamo lavorato anche per risolvere il problema della raccolta dei rifiuti, anche il problema della Tari perché abbiamo ereditato una Tari salatissima per i nostri concittadini, lo ricordo, l'abbiamo ereditato perché qualcuno prima di noi ha deciso di rottamare una società che comunque svolgeva egregiamente il proprio compito in città, piuttosto che magari pensare di acquisire dal patrimonio del Comune in modo tale da abbassare direttamente il costo per le tasse dei cittadini a fronte di un servizio qualitativamente elevato come era quello che veniva svolto prima dalla Ecoem. Avete sanzionato a tal proposito la Tradeco, abbiamo letto tutti sugli organi di stampa quello che sta accadendo perché la città non è pulita come la vorrebbero i cittadini di Montesilvano, ma molto probabilmente anche come la vorrebbe il sindaco qui presente, quindi c'è un braccio di ferro in atto con la Tradeco, come possiamo definire questa querelle? Io dico che oggi paghiamo delle scelte sbagliate fatte in passato, ripeto, io avrei fatto in modo che la società dell'Ecoem diventasse una società in aus del Comune di Montesilvano in modo tale da continuare a svolgere per bene il servizio per il quale prima nessun cittadino si lamentava e avere dei costi più bassi per la gestione del servizio, dei costi più bassi soprattutto in bolletta per quanto riguarda i cittadini. Chi mi ha preceduto ha pensato invece che andasse fatto un nuovo bando e andasse individuato un nuovo soggetto privato, i risultati credo non gli abbiano dato ragione, nonostante i tanti correttivi che noi stiamo cercando di apportare quotidianamente con le contestazioni che vengono fatte sistematicamente per un servizio che riteniamo probabilmente non all'altezza di una città di 54 mila abitanti come Montesilvano. Ricordo ai cittadini che da contratto la Tradeco dovrebbe raccogliere i rifiuti in città l'indifferenziato solamente tre volte alla settimana. Se questo accadesse questa città verrebbe sommersa immediatamente dai rifiuti, quindi abbiamo dovuto cercare di intervenire, siamo intervenuti e continuiamo a farlo per stimolare la società ad una raccolta puntuale e costante su tutto il territorio, ma ci rendiamo conto che l'ottimum ancora è lontano da arrivare. Ma per questo non disperiamo perché io quotidianamente faccio uscire due dipendenti del Comune per verificare e contestare tutte le eventuali inadempienze che si dovessero verificare. Sindaco, siamo al termine di una stagione estiva che ha fatto registrare dei numeri molto positivi per la città di Montesilvano. Eppure Montesilvano ha dimostrato purtroppo di investire molto poco sul capitolo turismo, vuoi per l'eseguità dei fondi a disposizione, vuoi anche per tante situazioni concomitanti. Lei ci crede in questo settore, nel settore turistico, perché Montesilvano merita molto di più di quello che si è visto? Siamo perfettamente in linea come idea su quella che potrebbe essere l'identità reale di Montesilvano, anche perché Montesilvano non ha mai avuto un apparato industriale, un terziario avanzato che potesse dargli la possibilità di sviluppare altri settori. Noi abbiamo una grandissima risorsa che è il mare, abbiamo anche degli ottimi imprenditori nel settore turistico che ovviamente hanno bisogno di essere a volte stimolati e a volte appoggiati. Questa amministrazione non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno e continuamente ne cerca una compartecipazione per raggiungere obiettivi importanti e prestigiosi. Noi stiamo facendo la nostra parte, come giustamente stavi dicendo, anche in carenza di risorse economiche. Quest'anno è stata una stagione eccezionale sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello delle presenze. A questo ha giovato non soltanto il fattore climatico che è stato in dubbio perché abbiamo avuto una stagione estiva davvero molto bella e con caldo e sole tutta l'estate. Però abbiamo riscoperto la volontà e il desiderio di Montesilvanese di riappropriarsi del proprio territorio con un'isola pedonale che è partita in sordina e tra qualche critica di qualche commerciante e poi è diventato un punto fermo dell'estate montesilvanese, così come il mercatino ittico che è nato per assolvere a un compito di fornitura di pesce fresco e è stato rispolverato anche in un'ottica di intrattenimento con la sagra dello spiedino. Queste sono idee che sono frutto dell'amministrazione e dell'impegno targate non soltanto Maragno ma stimolate dalla creatività e dall'ingegno del consigliere Falcone che a questo ci ha creduto e che ha voluto fortemente realizzare ed in questo ha trovato il sostegno dell'amministrazione. Ma anche se fossero arrivate queste idee dall'opposizione sarebbero comunque state prese in debita considerazione. Tutto ciò che può apportare dei vantaggi al territorio viene bagliato e se ha i presupposti per poter raggiungere l'obiettivo viene sicuramente incentivato. Ma a proposito, siccome ci troviamo tornerà a funzionare l'anno prossimo Radio Mare? C'è un sistema audiofonico di informazione sulla spiaggia, il primo in Italia, prima ancora di Rimini addirittura, che è ancora fermo al palo da tre anni che non funziona. Cosa succede, Sindaco? Io sono fiducioso anche perché abbiamo risolto l'intoppo burocratico che non consentiva l'espletamento del bando, quindi credo che non ci sia nessun tipo di problema che il prossimo anno Radio Mare possa tornare ad essere un servizio indispensabile per il territorio, così come lo ha dimostrato durante il periodo in cui svolgeva non soltanto attività di intrattenimento ma anche e soprattutto attività di informazione. Due strutture che potrebbero far fare il salto di qualità a questa cittadina, sempre parlando di turismo, il Palacongressi e la Stella Maris. Che idee avete e a che punto siamo? Proprio la Stella Maris oggi stanno posizionando un'opera pregevole di un artista di fama internazionale, Felice Levini, che siamo riusciti ad individuare perché Montesilvano ha partecipato insieme all'altra 40 città in un progetto sponsorizzato e patrocinato dall'Expo per mettere in mostra l'idea del cosiddetto palo della cuccagna nella diversa interpretazione e visione dei diversi artisti chiamati a partecipare. Sempre tutto buonissimo qui da Paolo, l'amico Paolo. Noi crediamo nel progetto Stella Maris, infatti siamo in contatto continuo con l'Accademia delle Belle Arti, ecco perché abbiamo voluto posizionare quest'opera di Felice Levini all'interno della Stella Maris, proprio per rispolverare l'attenzione verso questa che è una delle strutture più pregevoli di tutta la provincia di Pescara e probabilmente di tutto l'Abruzzo è che se opportunamente individuato come contenitore, noi riteniamo contenitore idoneo per l'Accademia delle Belle Arti, possa rappresentare e rappresenterà sicuramente il volano dello sviluppo economico di tutta la zona a nord di Pescara. Il Palacongressi può fare molto di più? Il Palacongressi è una struttura che ci dà una identità importante su tutto il territorio abruzzese, per il quale l'amministrazione si è determinata a promulgare un bando che possa garantire a chi vincerà questo bando, ma soprattutto a tutte le strutture presenti sul territorio che ne potrebbero trarre beneficio, un turismo non solo congressuale, ma magari anche fieristico che possa apportare quel valore aggiunto di cui questo territorio ha bisogno. Parliamo di cultura, la scuola civica tornerà a sorridere? Beh, diciamo che nel momento in cui ci siamo insediati e abbiamo trovato questa grossa voragine nei conti, il primo consiglio che mi era stato dato era stato quello di sopprimere la scuola civica di musica, un'istituzione che comunque è ormai un punto fermo della cultura montesilvanese e su cui ho voluto tentare un salvataggio in extremis, salvataggio che è riuscito perché anche con la collaborazione dei docenti e della struttura dirigenziale che ringrazio per l'impegno e per la dedizione aprirà i battenti il 19 ottobre fornendo quella solita professionalità, altissima professionalità che l'ha connaturata in questi anni. Questo è il punto di partenza per poi procedere al rilancio della struttura perché vogliamo che diventi un'eccellenza a livello regionale. La farmacia comunale ad oggi, ripensandoci bene, sindaco, è più una croce o una delizia per l'amministrazione che le guida? Diciamo che finora Montesilvano si è freggiato di avere una farmacia comunale che però era una zavorra per i conti pubblici perché se consideriamo che da quando è stata istituita non è mai stata inutile e quindi ha rappresentato un'emorragia di denaro pubblico, diciamo che è stata una croce. Oggi però anche grazie a quelle che sono le indicazioni che abbiamo dato, l'obiettivo è quella di darla in gestione ai privati in modo tale da azzerare la perdita e da fornire, garantire un introito costante che può davvero risultare determinante in questo periodo. Sempre collegati qui a tavola dal ristorante La Vigna di Montesilvano con il primo cittadino stiamo assaggiando uno dei tanti primi piatti, una delle ricette di punta di questo locale che ci ospita e noi ci avviciniamo in addirittura ad arrivo. Sindaco, sa come l'hanno definita in tanti che lei è una persona correttissima e Montesilvano dopo quello che era successo in passato, aveva davvero bisogno di una persona onesta, corretta, precisa, però è un po' restio, la definiscono una persona restia a partecipare a manifestazioni pubbliche, a cerimonie di vario genere. È vero? Come si potrebbe definire? Alla luce di quello che si dice ma soprattutto alla luce di quello che accade in città? Beh, diciamo che fa parte forse un po' del mio carattere il fatto di non voler apparire anche perché nella mia filosofia di vita ho sempre considerato la sostanza prevalente alla forma. Capisco che il ruolo che ricopro a volte mi richiede di svolgere delle partecipazioni che probabilmente non si confanno esattamente a quella che è la mia identità, però lo sto facendo, lo sto facendo anche di buon grado, avendo comunque come obiettivo principale la soddisfazione del cittadino. Ritengo che comunque le valutazioni vadano fatte non sulla partecipazione alla manifestazione insieme, ma sui risultati che si ottengono e questo credo che è la cosa che veramente sta a cuore ai cittadini. Tra i primi punti all'ordine del giorno del suo programma elettorale figuravano il problema lavoro e il problema sicurezza. Io lo ricordo nel corso dei vari appuntamenti itineranti. C'è ancora però molto da fare in questi due settori? C'è tanto da fare, ma perché comunque l'Italia è una congiuntura negativa che ovviamente non sta risparmiando neanche l'Abruzzo. Quotidianamente le imprese chiudono e non riaprano e quelle poche imprese che faticosamente riescono ad andare avanti sono costrette a ridurre il personale. Sotto questo punto di vista però sono fiducioso perché iniziative importanti come far venire qui una sede di staccata dell'Accademia delle Belle Arti di Roma potrebbe avere un ritorno occupazionale intorno alle 300 unità, quindi un ritorno importante per una città di 54 mila abitanti. Così come le iniziative che stiamo portando avanti anche nell'ambito turistico potranno e sono certo portare un maggiore afflusso di turisti e questo significa maggior benessere e maggior lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza, io ormai sono di casa al Ministero degli Interni dove ormai ogni volta che entra la gente scappa via perché non ce la fa più a vedermi e perché sono sempre lì a battere i pugni perché voglio che venga aperto permanentemente la struttura della Polizia 365 giorni all'anno, quindi un posto fisso di Polizia o in alternativa il potenziamento della Compagnia dei Carabinieri perché Montesilvano ha le dimensioni, i numeri, se consideriamo anche le presenze estive, i numeri di un capoluogo di provincia e decisamente merita la stessa importanza e lo stesso riconoscimento soprattutto ai fini della sicurezza. A chi la considera ancora un dormitorio della città di Pescara? Che cosa potrebbe dire il sindaco Maragno? Cosa manca a Montesilvano oggi per essere davvero vivibile 365 giorni ma soprattutto per avere una sua identità, per riscoprire come si suol dire la Montesilvanesità? Manca quel senso di appartenenza che va comunque costruito e che quotidianamente ciascun Montesilvanese deve mettere in discussione. Montesilvano purtroppo è una città che è cresciuta troppo rapidamente. Diciamo che il 60% o il 70% dei Montesilvanesi non è nato a Montesilvano e Montesilvanese è d'adozione, come del resto il sottoscritto e ha bisogno, questa parte, di essere integrata nel sistema Montesilvano. Ma io sono fiducioso perché i tempi stanno cambiando, le nuove generazioni stanno dimostrando di avere molta lungimiranza in questo e che stanno facendo i passi giusti per fare in modo che Montesilvano riscopra la propria identità, sia propri della propria importanza nel panorama regionale, perché Montesilvano non è più un comune grande di sopra di Pescara, ma è una città importante che merita il suo riconoscimento e per cui tutti dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo. Questo è il pensiero del sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ci abbiamo messo più di una anno per averla a tavola, grazie perché lei è oberato davvero di impegni, quindi noi la ringraziamo pubblicamente. Adesso vorrà dire che ci vedremo ogni mese. Senz'altro, grazie, davvero molto simpatico. Ringraziamo e salutiamo così il primo cittadino di Montesilvano, Francesco Maragno, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante La Vigna in via Piemonte a Montesilvano, un locale storico. Salutiamo la direzione guidata da Paolo Agnellini, davvero un professionista della ristorazione che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione abruzzese. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Arrivederci. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia, emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale o addirittura con il Festival dell'umorismo, esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'agenzia promozione spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Finalmente, in Abruzzo, riprese e montaggio in Full HD. Il meglio del meglio con attrezzature altamente sofisticate e professionali. Registra in Full HD e approfitta ora delle condizioni particolarmente vantaggiose. Chiama subito. Agenzia promozione spettacoli 337 91 71 11. La qualità dell'immagine ti aspetta!